Il fumo è un attentato alla salute. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la seconda causa di morte nel mondo. Più che abitudine, per la maggioranza dei fumatori che in Italia superano abbondantemente gli 11 milioni, accendere una sigaretta, un sigaro o la pipa è una ripetizione ciclica della quale è difficile fare a meno. In aggiunta agli interventi legislativi per contenere il fenomeno, esistono specifici farmaci e terapie psicocomportamentali a disposizione di chi desideri uscire dalla spirale del fumo. Maria Caterina Grassi, professore associato di farmacologia della Facoltà di Medicina dell'Università Sapienza, nonché responsabile del Servizio di Tossicologia d'Urgenza e Centro Antiveleni del Policlinico Umberto I di Roma, ci spiega come farlo. Si può uscire dalla dipendenza a nicotina. Il problema è che i medici non conoscono bene il problema, nel senso che durante la Facoltà di Medicina si insegna poco la dipendenza a nicotina perché ci sono tante altre cose da insegnare, importanti e tante altre droghe d'abuso. È una dipendenza da cui si può uscire. Ci abbiamo dei farmaci e delle linee guida. Noi facciamo al Policlinico, si fanno dei corsi di gruppo dove c'è la terapia di counseling e le terapie farmacologiche. Ma perché siamo dipendenti? Siamo dipendenti perché quando fumiamo la nicotina, la nicotina arriva direttamente nel cervello perché passa immediatamente nel giro di due secondi la barriera ematoencefalica e ci dà una fase di benessere che ci dà una produzione di dopamina. I medici possono fare tantissimi medici di base per aiutare i soggetti a smettere di fumare. Per esempio con i corsi antifumo che ci sono al Policlinico nel giro di 16 anni noi abbiamo intervistato tutte le persone che hanno fatto i corsi e circa il 50% sono rimasti non fumatori. Quindi questi corsi che utilizzano la terapia di gruppo e i farmaci sono dei corsi che sono efficaci. Non solo. Noi siamo andati a contattare tutte queste persone dopo anni e gli abbiamo chiesto se erano più felici adesso o quando fumavano. Tutti ci hanno risposto che erano più felici quando non fumavano.